Buona e santa giornata a tutti, buon sabato e buon fine settimana. Da come mi avete scritto, so che tanti di voi iniziano oggi ufficialmente le vacanze, le ferie. Vi raccomando la prudenza durante questi giorni di riposo, la prudenza nelle macchine, perché ci sono veramente delle persone che sono da ritiro patente. Ve lo dice uno che tornando da Pompei, sull'autostrada c'era gente che sorpassava la destra, la sinistra, che si infilava, che si toglieva. State prudenti, state attenti, riposatevi, divertitevi, non abbandonate la preghiera, mi raccomando, non abbandonate la santa messa dominicale, ecco, se dovete lasciare la macchina, lasciatela, ma prendetela per andare alla santa messa. Questo ve lo dico con tutto il cuore, ve lo chiedo con tutto il cuore, non abbandonate l'eucaristia e la preghiera. Per il resto, che cosa vi devo dire? Come dicevo già nel video della buonanotte ieri sera, mi sono accorto di quanto la preghiera ci unisce e di quanto è potente la preghiera. Allora, ecco, sacrificandomi, lo faccio con tutto il cuore, veramente con tutto il cuore, voglio fare una nuova novena a Maria che scioglie i nodi. Inizieremo proprio con la novena all'assunta, il 6 agosto, alle 7.30, dal 6 al 14 agosto, tutte le mattine alle 7.30, su questo canale YouTube Don Francesco Cristofaro, e pregheremo la Madonnina che sciolga ancora anche tanti altri nodi. Lo diciamo a tutti, lo diciamo a tanti, invitiamo ad unirsi a tantissimi e preghiamo. Io voglio darvi un pensiero molto semplice. Siamo davvero una grande famiglia e tutti noi ogni giorno incontriamo persone, storie, volti. Quello che vi raccomando, fratelli e sorelle, non giudicate. Quello che vi raccomando, non condannate. Siate sempre buoni, abbiate una parola dolce sempre, abbiate una parola di attenzione. Cercate di capire prima che di giudicare. Cercate di ascoltare prima che di aprire bocca. Cercate di pregare anziché allontanare. Cercate di comprendere questo, che ognuno di noi ha un mondo nel suo cuore e che ognuno di noi vive delle battaglie. Ognuno di noi ha delle lotte. Ognuno di noi porta dei pesi. Cerchiamo di sopportarci e di portare gli uni con gli altri la croce. Siate sempre umidi, buoni e per tutto quanto voi avete bisogno. Rivolgetevi con cuore sincero a Gesù e a Maria. Gesù confido in te, Maria mi abbandona a te. Signore, Madre Santa, non mi abbandonate. Prendetemi per mano. Camminate con me durante questo giorno. Camminate insieme a me, nella mia vita. Siate sempre al mio fianco. Benedite tutto ciò su cui si posa il mio sguardo. La mia casa, la mia famiglia, i figli, gli affetti. Tutto quello che porto nel cuore. Benedite, benedite, benedite. E ora facciamo una preghiera insieme e vi dono la santa benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti. Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Per chi si trova nelle vicinanze di Simeri o in vacanza in Calabria, io sono in parrocchia. Oggi pomeriggio per la Santa Messa delle 19 e domani pomeriggio per la Santa Messa delle 19. Vi voglio bene. Buone vacanze a tutti. Buone vacanze a tutti.